Ciao a tutti amici orceani vicino e lontani, è arrivato il Natale anche ad Orzi Nuovi e lo si può notare soprattutto dalla nuova atmosfera della piazza. Le luminarie, offerte come sempre dai commercianti, regalano un bellissimo colpo d'occhio da qualsiasi angolazione. Sui social network comparino fotografie e commenti positivi sulle nuove luminarie che sembra abbiano portato un po' di gioia in più che in tempi di crisi non fa mai male. Tra le altre novità di quest'anno è giusto anche segnalare l'installazione di alcuni fari per l'illuminazione del nostro castello e la presenza degli altoparlanti sempre in piazza Vittorio Emanuele e in piazza Garibaldi che trasmettono musica natalizia durante le ore del giorno. Insomma Orzi Nuovi sembra si sia rimesso a lucido per questo Natale nella speranza che gli investimenti dei commercianti, del comune e di Orceania portino un po' di gente in più nei nostri negozi e un po' di felicità in più nel nostro cuore. Ciao a tutti e alla prossima puntata del Tg Orzi